Senna si è fermato, riparte ed ecco qui in esclusiva, possiamo dire così, il suo incidente in fondo a rettilineo di Signa. Ha rotto il motore in questo momento, gli va dell'olio sulle ruote posteriori e a circa 300 km all'ora vedete il fuoco del turbo sull'olio che ha perso, si sono viste le fiammate e pensate un pochino quando in questa curva non c'erano le reti di protezione che rallentavano l'uscita prima del guardrail. Buon per lui, è andato tutto bene.